Salve a tutti ragazzi, sono sempre Momenza e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo tutti voi con la carriera dell'attore come il nostro Colchester Buona domenica ragazzi, oggi si comincia aprile e guardate che episodio ci aspetta Southampton, Sheffield, Atletico Madrid, Watford, Atletico Madrid Allora ragazzi, non so bene come gestirlo Stavo pensando che avendo lo Sheffield così in maniera ravvicinata contro l'Atletico Madrid Quasi quasi, simolo Southampton, gioco Sheffield con le seconde linee e poi vado a giocare Atletico Madrid Io direi di fare così Per quanto riguarda la formazione con la quale andremo a sfidare lo Sheffield Allora io farei riposare un attimo Ike perché tanto la resistenza ce l'ha Dentro Ortega, per il resto fuori Paiva, dentro noi House, mettiamo Ferguson Mediano Potremmo andare così ragazzi, potremmo andare così Sì, 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 non mi dispiace, mi piace anche la gestione dell'episodio Così poi ci concentriamo anche sull'Atletico Madrid e potremmo fare sia andata che ritorno Per quanto riguarda la simulazione, incrociamo le dita ragazzi Vinciamo 3 a 1 Dai ragazzi, doppietta di Poku Gol di Sabbi Nessun infortunio Questa è la cosa più importante E adesso ci possiamo concentrare sulla prossima partita Guardate, guardate adesso la classifica Rimaniamo primi con una partita in più ragazzi Voi immaginatevi vincere questa partita contro lo Sheffield Andiamo in campo dunque con questa formazione Sempre sul pezzo, forza col Chester Sinceramente mi dispiace un po' far giocare Scott Perché è possibile poi che nella partita contro l'Atletico Madrid non sia in forma Però, come detto, nel primo tempo lo cambio Il problema è che è buggato Buggato nel senso che comunque lui si lamenterà sempre Anche se gioca Che bella questa azione dello Sheffield Occhio a Robinson la mette in mezzo E Cordoba stava per fare un gran gol Che bella questa azione Con Portius ho deciso di marcare Cordoba Perché Se no rimaneva in mezzo da solo Però alla fine Portius si è staccato dalla marcatura Guardate che bella palla Danza Per Noyhouse Che ha un controllo un po' così così Non pulito mi è sembrato Ma c'è ancora il Colchester Con Schleiger Che l'allarga per Taffarimor Che può avanzare Indisturbato Passa dal centro Ove c'è Daka Che si appoggia a Noyhouse Non è male la palla per Johnstone Qualcuno ha subito fallo Non ho capito chi sinceramente Attenzione perché questa è una posizione Importante per Schleiger Ci mettiamo un pochettino più di Potenza magari così Ma Schleiger Dai che si prova così a giro No ragazzi non ci credo Ma io non ci posso credere Ma io voglio rivederla ragazzi Ma che punizione ha tirato Schleiger Fammela rivedere da qua Spettacolare Così a uscire Bellissima A dir poco Perfetta No vabbè Ho preso Link Ma ho preso Traversa e Palo Boom Eh no Solo Traversa probabilmente Pazzesco raga Cosa aveva fatto Schleiger Ma Portius Gran pala recuperata Bellissima Poi è per Johnstone Di prima intenzione per Daka Che la protegge E la piasta col destro È tutto buonissimo ragazzi 1-0 col Chester Con Ken Unchalance Peccato averli trovati Solo In questa Ultima stagione I veri sostituti Di Sabi e Scott Raga Qui Daka Veramente di fisico Con Molta tranquillità Bravissimo anche Nella finalizzazione Assolutamente No dicevo Sia Daka Che Luke E Bacchio Sono assolutamente I miei I miei giocatori Per il mio stile Di gioco Quindi Veramente un peccato Averli trovati Solo adesso Perché avrebbero potuto Fare veramente Degli sfaceli In realtà Luke E Bacchio È un po' Che lo teniamo d'occhio Però Scott La protegge Serve Johnstone Attenzione Johnstone Prova A fermarlo Un giocatore Del Lo Sheffield Ma non ce la fa Perché Johnstone Ragazzi È un funambolo Schlager col mancino A incrociare Grande apparata di Davis Ma come Dani Calvo Ma in che senso Dani Calvo A me pare che ce li abbia Tutti quanti Allora Finisce con il primo tempo 1-0 per noi Occasione importante Per lo Sheffield Però Niente più Vero Se avesse fatto quel gol Sarebbe stata Una partita diversa Però Fuori Scott Dentro Luke E Bacchio Che si va a mettere Qua Perché è mancino Io ragazzi Tolgo anche Schlager Dentro Anderson Se ne è questa bella palla Per Robinson Noi house in chiusura Taffarimura è rimasto Arretrato Bravo Portius Ha tolto una brutta palla Poi Danza Coduro Si addormenta La liscia Stracagli Ma che cognomi C'hanno questi Io non so leggerli Occhio Cordoba L'avevo letta Ancora lì Ancora lo Sheffield Ancora stracali Ma guardate come la fan girare Raga Bravo Cordoba Sempre così ti voglio Giro palla dello Sheffield Il Colchester Riesce a chiudersi Quasi sempre molto bene Qua c'è il fallo Di Noi house Facciamo fatica un attimo A uscire Stiamo facendo girare Veramente molto bene Il pallone Occhio a questa punizione La mette Dentro Luque Bacchio Mi verrebbe da dire Guardate ragazzi Il pareggio Dello Sheffield Pazzesco Veramente Pazzesco Veramente Pazzesco Veramente Cioè io Sono senza parole Fuori d'H Dentro sabbi Poi ditemi Se si può prendere Un pareggio del genere Ma pallone innocuo Luque Bacchio La rimette in mezzo Poi alla fine Poverino Ci deve andare Anderson Non ho capito molto bene Il tuffo di Tan Davis Però insomma Comunque è pazzesco Come Parli bene di un giocatore Successivamente Ma proprio Successivamente fa la cazzata Adesso la perdiamo anche Attenzione Adivev È passato Mamma mia ragazzi Ultimi minuti di gara Prendi sta palla Prendi sta palla E fai ripartire Sabbi Fallo ripartire Fai ripartire Sabino Vai Sabino Fino in fondo Sabino Oddio Oddio Dov'è Ma non ci fa Si può dare un colpo di testa Del genere Ma non si può dare Un colpo di testa Ma come si fa Mandare un colpo di testa Del genere A botta sicura A botta sicura Mamma Che partita abbiamo pareggiato Ragazzi Che partita abbiamo pareggiato Pazzesco Veramente Pazzesco Veramente Quanto mi girano le balle Per fortuna Mi fanno un po' di vento Che fa un caldo bestia Però Insomma Rimaniamo davanti Ma Potevamo Potevamo sfruttare Assolutamente meglio La nostra occasione Si Potevamo farlo Adesso però ragazzi Mettiamoci già alle spalle Questa brutta partita Contro Lo Sheffield Si poteva fare decisamente meglio Mi è un po' anche volata Se devo dirla tutta Adesso è stata molto rapida Come partita E Ci concentriamo Chiaramente Sulla Champions League Mi porto dietro Luque Bacchio Al posto di Moore Mi tengo Johnstone Mi porto dietro Però Danza Si 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 Ragazzi Andiamo così Portius Capitano Vero No Mettiamo ovviamente Il nostro Stevie Stevie È Assenza pesante Quella di Schlager Andiamo in campo Dunque signori Sempre sul pezzo E forza Colchester Come potete vedere Tra di come ho detto Che è da 6 pere a 2 All'Inter Inter che comunque Quando passa così il tempo Solitamente ha comunque Una buona squadra Occhio Porro Spinge subito sulla fascia La può mettere In mezzo La palla arriva Scott Che si gira in qualche modo Bo Ancora Scott Mamma mia Mamma mia di fisico Scottino Anderson La fa scorrere Ferguson Occhio a Cuffre Che chiude Mamma come sei andato Ferguson Come non mai Costici in qualche modo Aiuta E Geni La mette fuori Oh c'è Enrique Ne Joao Felix E Correa Ammazza Sì ma Ma come fai a passarlo Enrique Non lo passi Enrique non lo passi E decide di tagliare il campo Bella questa palla per Sabbi Arriva anche Porro Che spinge sulla destra Il controllo è così così Cuffre Decide di metterla In rimessa laterale Ma ci siamo ancora Ovviamente Porro Aveva fatto un buon movimento Sabbi Ma poi si è addormentato La conquistiamo di nuovo Ferguson Occhio Stevenson Ci può provare da fuori Stevenson Scalda Iguantoniao Black Tiro centrale Potente Ma non complicato da parare Dunque quello su Scott Era fallissimo Bella questa palla Nel frattempo per Harry Kane Portius Sull'inglese Joao Felix L'allarga per Chi era? Correa Portius Ottima chiusura Bravi ragazzi Forza Ma come direte È molto pericoloso Ma Ikei Ancora in chiusura Poi Portius La palla arriva Che indusi Tan Davis Di nuovo La battezza fuori Ok questa bella palla Correa Ike in chiusura Bravissimo Ikei Ha già fatto tre chiusure Fenomenali Porro Guardate come avanza Ferguson Servito Scott E adesso Ferguson 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 È un po' lento Mamma che brutto fallo Eh la stecca c'è Ragazzi la stecca c'è La stecca c'è La stecca c'è Ha preso il pallone Però raga La stecca c'è Questi falli qui Sono sempre Difficili Perché effettivamente Jimenez Prende il pallone Però raga Ferguson è stato Distrutto Ci sta Ci sta Ci sta Entra Mancini Ed esce Harry Kane Raga meglio di così Non si poteva mettere Per noi Perché batte Ferguson Raga io faccio battere Anderson Ce l'ho qua Palo Mi è scivolato un po' Il dito verso il palo Raga ho preso il palo Non ci posso Veramente credere Non ci posso Veramente credere Occasione Colchester Che adesso deve Assolutamente Sfruttare L'uomo In meno Della 3 di con Madrid Anche se non mi sembra Che la 3 di con Madrid Si sia spaventato Ottima palla recuperata Soprattutto Deve sfruttare il fatto Che sia uscito Harry Kane Scott Se la viene a prendere Riesce comunque A giocarla Ad Anderson Che sfida Bogle Occhio al pallone Per Scott Col destro Mamma Oblak Che parata che ha fatto Ragazzi Questo è un miracolo vero Ma oggi passano Velocissimi i minuti Sono molto concentrato Non posso sbagliare Guardate che parata Che ha fatto Oblak Anderson Ha la battuta Del calcio d'angolo Dalle parti di Gwendusi La mette fuori Poku Stevenson Palla per Ferguson Ancora Cuffre Ferguson la mette in mezzo Ancora Oblak Sul destro Sull'anticipo Di Sabbi Ma io non ci posso Credere Datemi sta palla Mamma come stiamo lottando E qui non si può sbagliare Sì E Mano e Sabbi Finalmente 1-0 Colchester Allo scadere del primo tempo Bravo Poku A recuperare palla Su Kostic A lottare Poi guardate Stevenson Stevenson conosce il calcio Wow Forse Oblak Poteva fare qualcosa di più Effettivamente Tiro molto ravvicinato Ma non angolato Poteva far meglio Poteva far meglio Finisce col primo tempo Signori Colchester In vantaggio per 1-0 È una bella partita L'Atletico Madrid È una squadra bella tosta Però Chiaramente con quell'espulsione Le cose si sono messe bene Per noi È innegabile È innegabile Perché è Sherry Kane Ragazzi Cioè Guardate Ike ragazzi Non sbaglia un intervento Non sbaglia un intervento Ike Scott Si gira Occhio perché ce l'ha sul destro Chiaramente il suo piede forte Lo prova La colpisce male Palla che sembrava Rimbalzasse anche Leggermente Sessantesimo È il momento di fare Almeno un cambio Quindi fuori Anderson Sapete che io Per quanto riguarda Per quanto riguarda Scott Sono sempre un pochettino Diffidente nel toglierlo Quindi Copriamoci un attimo In questo senso Con Danza Lo mettiamo lì Facciamo fare un po' di legna Bravo Anderson Sono proprio contento Di averlo ottenuto Di averlo cresciuto Magari non Al massimo Però è davvero Un ottimo giocatore Anche questa palla Per Guendouzi Se ne va Stevenson In maniera veramente Ottimale Il tiro Di Palacios Ragazzi Ottima parata Di Ethan Davis Rischioso Rischioso Ce l'eravamo persi Mamma mia Bravo Ethan Mamma Scott Ora che si faccia un po' male Dentro Luke Bacchio Mettiamo Johnstone Poi al posto di poco Ferguson Occhio Bella questa palla Per Luke Bacchio Doppio passo Luke Bacchio Col mancino Oblak Ancora Luke E ancora Oblak Occhio raga Perché Mi sa che L'Atletico È andato Con la difesa 3 Così porta Più Giocatore in avanti Stevenson Però recupera Un ottimo pallone Dai ragazzi Sarebbe importantissimo Farne un altro Ma molto importante Johnstone Per Stevie È in posizione regolare Stevenson 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 Per Johnstone La partita conclusa Ha recupero scaduto Johnstone Mamma mia Sì Devo bere Ma Ma Stevie Importantissimo raga Perché Non prendiamo gol In casa nostra Ma soprattutto Ne facciamo due Perché con uno Le cose potevano essere Ancora in equilibrio Sono Anche così In equilibrio Però raga Stiamo Siamo in vantaggio Comunque per 2 a 0 Occhio perché Al Wanda metropolitano Può succedere di tutto Però Comunque Siamo avanti 2 a 0 Finisci qui signori Finisci qui Il Colchester Si aggiudica L'andata Dei quarti di finale Dei quarti di finale Di Champions League Contro l'Atletico Madrid Yes Allora Siamo in casa Contro il Watford Ragazzi Potrebbe essere Rischioso Però mi voglio andare A giocare la partita Contro l'Atl Ragazzi Sapete Allora Senior sta attraversando Buon periodo E non ha tutti i torti Però Scott non gioca Però A sto giro Daka Proprio Scott Lo mettiamo fuori Fuori da ovunque Mettiamo anche Ike In campo Andiamo a giocare così Proviamola Proviamola Dopo c'è qualche giorno in più Se non sbaglio Per recuperare Dall'Atletico Quindi Non dovremmo Dai sono tre Si dovrebbe recuperare Abbastanza bene Vediamo un po' Come va la simulazione Diciamo due a uno Si fa male Daka Sette giorni Ok Poca roba Poca roba Poca roba Per fortuna Ed eccoci qua signori In uno schioccar di Di dita Praticamente In un battito di ciglia In un Rotti No vabbè Ero stato Ero stato Poetico Me ne riesco così Con il rutto Vabbè Insomma Cambio Dentro Johnston Fuori Poku Perché da fare i mure Triste Ma per quale assurdo è stata A fare i mure triste Cosa deve essere triste No infatti stavo dicendo Ma scusate Perché non c'è Stevenson In campo E vado così Vado così Ovviamente con Stevie E gioco con noi house Andiamo in campo Con questa formazione Signori Sempre sul pezzo Ovviamente Forza Colchester E beh l'atmosfera Che Si accoglie Tra virgolette Tanta roba Ma dopo ci sono Di nuovo i sorteggi Non me lo ricordo Se poi andiamo a incontrare Uno tra il Real Madrid De Arsenal Penso ci siano Di nuovo i sorteggi Comunque Formazione Dell'Atletico Madrid Che all'entrata Mi è sembrata Simile A quella Dell'andata Chiaramente Viene a mancare Jimenez Vista l'espulsione Ma mi è quasi sembrato Ah Enric Kane Ok Enric Kane il capitano Attenzione Questa uscita Malandata di Wood Joao Felix Se ne va anche da Portius Prova batteri Tan Davis Poi Joao Felix Sbaglia L'appoggio Semplicissimo Siamo anche fortunati Occhio Bogle Può metterla in mezzo Porro in chiusura Bravissimo Occhio questa uscita centrale Però Correa Se l'alza Palacios Che legna ragazzi Tan Davis ancora attento Proprio su Palacios Pareto molto forte L'Atletico Madrid Doppia occasione In 15 minuti Io non so ancora Di che colore C'ha la maglietta o black Occhio questa uscita Malandata di Tan Davis La palla è per Joao Felix Al limite dell'area La larga per Kostic La palla finisce poi su Vuda Ancora Correa però Che la mantiene Joao Felix Porro Non vada Non vada A spese Però vedete Non riusciamo a tenerla Poi Scotti In qualche modo Si addormenta Mancini Se non sbaglio Eh sbagliamo C'è la grigia però La maglia O black Sono contento Di averla vista almeno Stevenson è il re È il king Ragazzi Mettila bene Eccolo Eccolo il colpo di testa Eccolo il colpo di testa Voi vi chiedete Ma che cazzo sta indossando Ho il costume Ragazzi Perdonatemi Per questa scena Imbarazzante Ma È il costume Sono tornato dalla piscina 1-0 Signori 1-0 1-0 Dal nulla Grazie a un recupero Fantastico di Stevenson Scott la mette in mezzo Completamente a caso E Johnston Questa volta Colpisce bene di testa Come avrebbe dovuto fare Contro lo Sheffield 1-0 Colchester Questo è un gran colpo di testa Una gran incornata Oblak non può nulla Genè È ancora lì che cerca Johnston Scott De che esce Mamma Cosa stavamo per fare Non ci credo Ragazzi Pensate Se Felix Avesse fatto Quel gol lì All'inizio Sarebbe stata Probabilmente Un'altra partita Invece così Ci troviamo in vantaggio Per 3-0 Con un gol fuori casa Con un atletico Che è veramente A zero gol Occhio porro Come se è andato bene Porretto La mette in mezzo Mancini chiude alla grande Stevenson Appoggio Per Schlager che se la alza Genè in qualche modo E chiude l'atletico Madrid Ok Porro Mamma che bella palla Cuffre Completamente fuori posizione Porro la mette in mezzo Ma Perché non c'è andato nessuno Era bellissima la palla per Johnston Perché non ha colpito Porro ha preso anche questa E adesso lancia Senior Potrebbe essere un problema per Genè Potrebbe essere un problema Per tutta la difesa Di l'atletico Madrid Senior la mette in mezzo Per Scott C'è la parata Oblak con i piedi ragazzi Poi Scott Prova a farsi perdonare Con una finta Se ne va ancora James Scott Sul destro Poi sul sinistro Ancora Scott Si schianta contro tutti Ci ho voluto provare ragazzi Ci ho voluto provare Manonna il gol che si è mangiato Non ci credo È finita ragazzi comunque Ma cosa è successo? Ma Cos'è successo? L'atletico Madrid parezza ma Non so sinceramente cosa sia successo raga Non tanto la scivolata di Portis Ma lì l'uscita di Ethan Davis Io sono scioccato Io sono veramente scioccato Non fa nulla Peccato perché Viene fuori come un pareggio E assolutamente Non è meritato da parte dell'atletico Ma no Invece sì Dai ci può anche stare come risultato finale Ma noi andiamo in semifinale di Champions League Chi se ne frega del risultato finale Interessa chi passa il turno E il turno lo passa il Colchester Partita molto strana È stata una partita veramente molto particolare Passa il Real Madrid di qua Perché batte sia nata che ritorno L'Arsenal 1-0 E Ragazzi siamo in semifinale di Champions League Cioè Passa il Colchester Liverpool Barcellona e Real Madrid Due inglesi E due spagnole Due inglesi e due spagnole Speriamo che non ci siano dei derby Sarebbe bello in finale magari un eventuale derby E niente Derby in semifinale Sarebbe contro il Liverpool E vi dico la verità Da un lato Sono abbastanza contento Perché il Liverpool Comunque l'abbiamo già battuto parecchie volte È praticamente È a 10 punti di distacco da noi Si può fare Da questo punto di vista È una sfida che si può fare Come si può fare questa partita contro il Newcastle Quindi evitiamo di fare altre cavolate Come per la partita contro Lo Sheffield Andiamo in capo con questa formazione signori Sempre sul pezzo E forza col cesto Scott Bella questa palla per rendersi Sono attenzione perché se la Porta avanti molto bene Fa fuori Kuatis Anche le John Anderson Col destro a giro Dubravka Altra occasione per noi Bella Non va Non va Non va Non va l'asiata di Scott Scott Bella per Anderson Ci può riprovare a giro Ma decide di servire Ferguson Che palla ragazzi Ancora Dubravka Oh regà Non riusciamo più a segnare Occhio a Poku Bella questa palla per Anderson Può metterla in mezzo Bella potente Kuatis chiude C'era James Scott Tutto Ma perché Scott va a battere Le messe laterali Mannaggia Mannaggia Anderson Ancora Danza Bella per Ferguson L'ho vista L'ho vista Ragazzi Questo è Questo è Questo è un gol Questo è un gol Da Barcellona Di Guardiola Cioè Questo è un gol Hope 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 E Hope Soprattutto Questa tanta roba Che classe Che gol 1-0 Si gira così poco Nel frattempo Danza Sabbi Scott la fa scorrere Si la mette sul destro Ancora Scott Non lo sposti Non lo sposti Non lo sposti Non lo sposti Boom Dubravka E poi Ferguson Ragazzi Io quando uso Scott Perdo la testa Scusatemi Capisco che esagero Ma dovreste provarlo Dovreste veramente provarlo A questi livelli Per capire quello che provo Ogni volta che lo utilizzo Occhio a un babbo Passa su Ortega Paiva Poi ottimo A chiusura E finisce con il primo tempo Mamma mia Sabbi Bellissima questa palla Per Scott Non ci posso credere Ragazzi Non ci posso credere Aveva fatto qualcosa Di incredibile Ma poi l'ha messa fuori Il pallonetto L'ha messa fuori Poco Mamma mia Guardate Anderson Che se la va proprio A prendere la palla Se la va proprio A prendere Dai proviamo A metterla questa Ma niente 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 altra traversa Però questa volta Dubravka la para Non so se la para Prima o dopo In realtà Durante Insieme Non si è capito Occhio perché Ha passato manchiglio No Mamma mia Weir Non so se la balla Sarebbe entrata Comunque Ma mamma mia Weir I tan davis Mi sembrava Leggermente battuto Bravo Tafari Riesce a giocare la danza Poku In avanti per Scott Che è costretto a tornare indietro Siamo un po' stanchi Effettivamente La facciamo girare Anderson Ortega Al centro Poku Guardate che bella azione Ragazzi Ma che gol abbiamo fatto Ragazzi Ma che gol abbiamo fatto Di nuovo Cioè L'Occasso Non ci ha capito nulla Da una parte All'altra E poi Profondità Senza parole Veramente Senza parole Veramente Senza parole Ma come si fa A dire due robe Sul gol Che abbiamo appena fatto C'è Un movimento Di palla Comunque raga Doppio cambio Dentro Clark Harris E Luke Bacchio Fuori Scott e Sabby Anche Newcastle Che prende coraggio Da Hood Mirancuk Ancora Da Hood Appena entrato Impegna Ethan Davis Ottima parata Del nostro portierone Poco bellissima Questa parata Da faremoor Attenzione Da faremoor Spinge Fini in fondo Al centro Luke Bacchio Ma anche Clark Harris Cosa ha fatto Luke Bacchio Esattamente ragazzi Non lo so Ferguson Anderson Che sinceramente Si merita Questo cazzo di gol E scusate il francesismo Ragazzi Ma ha fatto un gol Clamoroso Povero Newcastle Mi viene da dire Perché veramente Oggi è stata castigata Questa squadra Da 3 euro gol Questo gol di Anderson Ragazzi è È devastante Ma se lo meritava Ma se lo meritava Ma cosa gli vuoi dire Mamma dove l'ha messa Spettacolo puro E adesso esce Per senior Bravo Patrick Finisce qua signore Finisce qua Il Colchester Vince 3 a 0 Una partita abbastanza semplice Devo dire Newcastle non si è reso pericoloso Noi fantastici Veramente Nella gestione della partita Nella creazione di occasioni Molto molto bene Molto molto bene Manteniamo La vetta della classifica Voglio capire meglio Un attimo La posizione I punti Tutto quanto Perché C'è sempre chi gioca Prima Dopo C'ha 5 partite in più 5 in meno E niente Siamo Siamo lì ragazzi Sempre nel caso Di vittoria A due punti Dal Manchester City Occhio ragazzi Occhio Perché I punti della United Sono 6 Quindi dobbiamo giocare Col City Ma non ci sono Più scontri diretti Ok Queste sono le partite Che ci restano Quindi Bermouth In campionato Wolverhampton Aston Villa West Brom With Albion E Arsenal 5 partite In cui dobbiamo cercare Di non perdere Questi due punti Di vantaggio Anche se Credo che Comunque Gli scontri diretti Li abbiamo a nostro favore Nel prossimo episodio Semifinale Di FA Cup Contro Il Everton L'Everton Semifinale Contro il Liverpool Forse Simuliamo qualche partita E ci facciamo La doppia semifinale Noi ci vediamo In un prossimo video Ragazzi Mi raccomando Supportate la serie Ci vediamo alla prossima Lasciate un bello Commento e consiglio Alla prossima Ciao a tutti ragazzi